Sono Carlo Biasiotto, Presidente della Fosmarai Sfumanti di Valdobiadene, Veneto, Nord Italia. Fosmarai si trova nell'area del Prosecco Superiore DOCG, denominazione di origine controllata garantita, un'area avvocata per la produzione di questo prodotto. È un'azienda familiare, distribuisce i suoi vini oltre che nel mercato italiano anche in diversi mercati stranieri e adesso siamo qui in questa occasione del Vin Italy in Russia per continuare a presentare il nostro prodotto in questo mercato che ci auguriamo che si avvicini anche alla nostra azienda. Grazie